Per un anno e passa abbiamo cominciato a sostenere l'Ucraina in tutti i modi, certo no, no, modi di terra, di invasione della Russia, no, però in tutti i modi, perché? Perché Putin è il mascalzone numero uno, la causa di tutte le sventure del mondo, quindi dovevamo aiutare Zelensky a combattere contro questo Putin. Adesso come era ovvio, perché in guerra poi contano i rapporti di forza e quindi come era ovvio l'Ucraina ha perso e adesso ci abbiamo un'altra narrazione. Quale narrazione? Quella che in Italia ha come alfiere Mario Monti, il compassato Mario Monti, che intervistato dal Sole 24 Ore, cioè dalla radio del Sole, cioè dalla radio della Confindustria Italiana, dice, ammette che se pensiamo che la Russia possa sfondare non solo in Ucraina ma anche a Occidente, se pensiamo questo è chiaro che in difesa dell'Europa dovremo mandare non solo armi ma uomini, anche se noi ci siamo abituati da tanto tempo alla pace, quindi non vogliamo mandare uomini ma sarà necessario, quindi adesso c'è l'altra leggenda. Prima Putin cattivissimo, adesso Russia cattivissima, Russia vuole arrivare anche a casa nostra, quindi dobbiamo fermare la Russia, quindi ci deve essere la guerra, quindi ci sarà uno sterminio di tanta gente e quindi l'obiettivo che tanti si propongono è quello di limitare, diminuire la popolazione sulla terra, quale occasione migliore di andare in guerra contro la Russia che vuole arrivare a casa nostra?